Spero di non disturbare. Come potete pensare a una cosa simile. È tanto tempo che non ci vediamo. Non siete più venuto a trovarci? No. Ma vedete, non sapevo se le mie visite sarebbero risultate gradite. Bene, a cosa devo questo grande onore? Sì, vorrei farvi una domanda di carattere legale. Dite. Ecco, si tratta di Marianna. Come forse sapete, Marcello è il suo tutore. Mi interessava chiedervi questo. Nel caso lui non desse il consenso a un suo eventuale matrimonio, potremmo opporci legalmente? Beh, se le qualità morali dell'uomo in questione sono irreprensibili, lui non può impedire le nozze. E comunque, se questo dovesse succedere, si potrebbe citarlo in giudizio, nel qual caso sarebbe costretta a fornire una ragione valida per la sua opposizione al matrimonio. Oppure lo si potrebbe accusare di comportarsi così in quanto interessato all'eredità di Marianna. Molto bene. Perché questa domanda? C'è forse qualche pretendente? Sì, Andrea Leardi. Davvero? È strano, Marianna non mi ha mai parlato di lui. Vedete, lei non sa ancora niente di Andrea, è una cosa di cui abbiamo parlato io e Sofia. Ma pensate di imporre a vostra figlia questo matrimonio? Assolutamente no. Io desidero che lei sposi l'uomo di cui è innamorata e che anche lui la ami. Ma siete sicura che sia il marito adatto a Marianna? E non lo dico per Andrea, perché a prescindere da alcune cose che sono accadute, io sono convinto che è un bravo ragazzo. Però avete pensato a sua madre? Sofia con noi si è sempre mostrata molto amabile. Sicuramente perché aveva già previsto che Marianna avrebbe sposato suo figlio. Sofia è una persona molto pericolosa, è meschina, dispotica. è capace di qualsiasi bassezza. Non condivido la vostra opinione e se devo essere sincera non gradisco che si parli male di lei davanti a mia figlia. Ma sei lei la responsabile di quello che è accaduto a Juan? Nessuno ha potuto dimostrarlo, neanche Marcello ci è riuscito. Forse si è trattato di una semplice supposizione o di una maldicenza. Una maldicenza mia? No, Nicola, per favore, cercate di comprendere. Marianna è una ragazza molto impressionabile che si crea fantasie e si suggestiona. A me invece sembra una ragazza molto intelligente. Assennata. Intelligente sì lo è. Assennata non molto. Ma anche supponendo che Sofia sia così come voi dite, Andrea sembra un ragazzo nobile e generoso. I figli non devono pagare per gli errori dei genitori. Ma può darsi. Forse avete ragione.